Ciao a tutti e a tutte, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Liberamente in Camper. Quello che state vedendo è l'erede di blu. Siamo all'interno dell'azienda Eco World Gas e siamo per l'esattezza a Sansepolcro. Il primo lavoro che voglio fare è togliere le due bombole in vetroresina installando l'impianto con la bombola ricaricabile fissa. Si tratta di una bombola ricaricabile omologata e trascritta sul libretto. Quello che state vedendo è la giornata di lavoro che è necessaria per poter collaudare l'impianto, installarlo. Ovviamente il tutto è fatto a regola d'arte all'interno dell'azienda. Non ultimo, una volta che avete installato l'impianto e ovviamente fatto i controlli, che tutto sia regolare e funzionante, vi viene anche data un'app che permette di controllare il livello del gas direttamente dal cellulare. Questa è l'app che state vedendo e 3, 2, 1, eccola qua. Beh, direi che è estremamente pratico. Per chi avesse ancora dei dubbi, il tutto è omologato, tanto è vero che dopo circa una settimana dall'installazione tranquillamente ti arriva a casa il tagliando da porre sopra al libretto di circolazione, che è proprio quello che state vedendo qua. Noi ci vediamo per il prossimo video, fate i bravi, ciao!